Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video vi farò vedere il mio album di carte Pokémon Nel video precedente vi ho mostrato questo, appartate che è un po' panata forse Nel video precedente vi ho mostrato questo, è solamente che ci ho aggiunto delle carte Abbiamo questa, questa, ma queste due c'erano già Ho anche Ushifu, Regigigas, Viastro L'ho trovato ieri Poi ci ho messo Moltres di Gala V, Toxic Rock X, Metacross GX Hyper Che l'ho anche messo nella busta E Arceus V Dopo ho un po' Ho due Olo, anzi tre E un'energia Allora la rimettiamo dentro perché Vabbè, la rimettiamo dopo E ho questa carta che l'ho trovata in un pochettino, invece queste tre sono false Ok, ora li rimettiamo dentro la carta Allora facciamo così Ok E vi faccio vedere l'album grande Quello che vi parlavo Allora apriamo Qua ci sono tutte le carte mie Alcune sono false Dopo vi dico quali Questa è falsa Vediamo se ce ne sono false Perché io voglio dirvi quali sono le false ovviamente Guardate quante carte ho Poi ce ne sono anche di più di una in vari spazi A volte, non in tutti Guardate quante ne ho Ne ho anche alcune del 2011 No, ho il telefono un po' scarico Vabbè Spero che non vi abbia dato tanto fastidio quel rumore Se l'avete sentito ovviamente Queste Guardate che belle Giriamo Qua ci sono alcune Olo Queste Queste No, questo qua è reverse Vediamo se ce ne sono false No, non Guardate quante ne ho Sono tantissime Questo Moltres È falso De Gala E anche questo Raichu Eeeh Sì Anche questo Anche questo Anche questo Eeeh No, no Ok Vediamo Ecco Questa è falsa Questa è falsa 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 Eeeh Falsa Falsa Ne ho tante false Eeeh Vediamo Ci sono anche queste Guardate Riquas 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 Normale Però guardate che bello Vediamo qua Guardate Anche io Ho le carte Giapponesi Come quelle di Marco Guardate questo E Anche Anche Eeeh Eeeh Giapponese E per questo video È tutto Ciao Ciao